eccoci ecco qui allora sto aspettando che Aizad mi mandi la richiesta eccoci grazie a tutti quelli che si stanno connettendo ok vediamo un po' ok scusate la prima diretta eccoci io Aizad perdonatemi ce la possiamo fare eccoci la prima volta è sempre più difficile delle altre esatto scusami ma adesso regolo anche l'altezza perché eccoci qua grazie di essere qui con noi grazie a te per l'invito sarai un pessimo divulgatore se non accorressi quando c'è bisogno di me eh infatti allora magari introduco per chi ci sta seguendo un po' qual è l'idea di questa intervista con te che sarà la prima di una serie che vorrei fare nelle prossime settimane l'idea è un po' quella di eh appunto fare questa serie di interviste che hanno lo scopo di approfondire dei temi prettamente relazionali relativamente alle sessualità tipiche quindi che vogliono un po' essere dei contenuti e a disposizione di di tutti per partire ho pensato che non si potesse non farlo con il consenso mi sembra un'ottima idea in generale nella vita in generale cioè ci stiamo dando il consenso che questa è la cosa migliore da fare eh magari per chi non ti conosce dico due parole su dita ovviamente se poi aggiungi tu quello che vuoi Aisad è un giornalista scrittore coach esperto in sessualità alternative o atipiche io le ho chiamate così prima lo trovate sui social Instagram Facebook tweet e Linkedin e Twitch ultimamente non lo sapevo sono non sono tornata eh sul suo sito aisad.com e poi potete leggere insomma i suoi libri lo vedo lì nella tua libreria ce l'ho qui anch'io qua esatto il testo o quella che chiamano la bibbia del BDSM no? insomma che contiene tutto direi o quasi tutto quello che una persona può sapere su questo mondo partirei se sei d'accordo andiamo allora quando proviamo a dare una definizione di consenso no? io una definizione come dire universale non solo legata alla sessualità c'è un accordo sempre revocabile tra due o più persone riguardo alle esperienze che si vogliono condividere insieme ok suona benino sì ok allora appunto siccome benino non è bene ti chiederei se sei d'accordo se hai qualcosa da aggiungere soprattutto rispetto alla sessualità e alla sessualità alternativa come questo come possiamo declinare questo concetto ok allora no va benino va benoni anzi come definizione l'unico problema è che quando si si parla di consenso come come vocabolo pensiamo sempre di avere le idee tutti chiare su su di che cosa si tratti no? il consenso è quella cosa che manca quando si leggono i fatti di cronaca eh però in realtà è più complicata di così perché ha tanti aspetti ehm legali sociali culturali eccetera quindi vediamo un po' oltre a quello che hai detto tu il consenso deve essere valido per esempio e valido vuol dire delle cose molto precise quindi ci deve essere la cosiddetta capacità di intendere di volere come si dice nei tribunali eh che per esempio possono avere solo le persone maggiorenni e che non siano sotto l'effetto di sostanze alteranti eh deve essere consapevole perché se io ti dico facciamo sesso e poi la mia idea di fare sesso è di completamente diversa dalla tua tu non hai dato un vero consenso un consenso parziale eh esattamente e devi sapere tutti e due dobbiamo sapere quali sono le conseguenze della nostra scelta eh non deve essere forzato perché hai voglia no ti do il consenso dopo un mese che mi fai una capoccia così che eh devi darmelo perché se no non mi ami davvero perché se no non sei una una vera partner una vera fidanzata una vera quel che vuoi eh insomma è un pochino più elaborato di così deve essere continuato ma questo mi sembra l'avessi detto anche tu nel senso non è che perché ti ho detto con sé sì un anno fa allora ancora oggi puoi fare quel che vuoi in ogni momento vero e e deve essere dimostrabile possibilmente questo non è un requisito legale però conviene soprattutto cosa intendi per dimostrabile intendo che se eh io dopo domani io e te oggi facciamo sesso dopo domani dico che mi hai violentato eh fa ridere ed è sbagliato eh perché esistono anche i casi di violenza da donna verso uomo anche se si pensa sempre agli altri però eh in realtà tu finisci in un sacco di guai fin quando non non riesci in qualche modo dimostrare che non questo non è vero e quindi diciamo che premunirsi eh con in qualche modo cercare in qualche modo di soprattutto se eh stiamo parlando di un incontro magari occasionale casuale eccetera male non fa quindi avere magari dei testimoni eh o del de uno scambio di messaggi di materiali eccetera aiuta immagino che questo soprattutto e anche questo elemento sia essenziale quando parliamo di quello della grande categoria delle sessualità alternative no dove come dire vengono fatte delle cose che possono provocare dei danni anche fisici per cui come funziona cioè io credo che il consenso sia universale in tutte le relazioni sessuali non sessuali affettive anche di amicizia dopo magari poi abbiamo questo concetto però mi sembra importante magari perché è un concetto che assume ancora più importanza quando si pratica BDSM si si sperimenta si sperimentano delle pratiche che magari possono farci incappare rischi emotivi ma anche fisici come la vedi tu questa hai perfettamente ragione tutta questa pappardella che ti ho fatto nasce proprio dall'esperienza della cultura BDSM che sulla sicurezza e rispetto reciproco eccetera ci va veramente a nozze però non per questo non vale in altre occasioni come dicevi tu qualsiasi tipo di relazione anche non sessuale nel senso di rapporti genitali anche solo di amicizia comunque dovrebbe essere basata sul consenso certo e non vale neanche pensare che sia più importante dove ci sono dei danni fisici i danni fisici è meglio non averli mi sembra ovvio però i danni emotivi fanno altrettanto male se non di più perché una ferita si cura un trauma invece ti porta in terapia per decenni e non è il caso decisamente diciamo che è una questione poi che da risolvere ci vuole il suo tempo eh sì allora mi viene da pensare questa cosa forse qualcuno pensando al consenso in ambito sessuale può pensare ecco vabbè ma se devo star lì ogni volta chiedere questa cosa va bene questo non va bene definire i confini della sperimentazione o della relazione si ma dove il gusto il bello e il gusto di tutto ciò dove sta per cui mi chiedevo rispetto a questa idea che possono avere in tanti no parlando a volte non si ha un po' questa impressione cosa si può dire a queste persone che possono formulare questa ipotesi è di chiedersi come mai si fanno questa osservazione secondo me nel senso che sì hai ragione ci sono tante persone che effettivamente la vedono così però io l'ultima volta che ho controllato fare sesso di qualsiasi genere con un partner consenziente era piuttosto piacevole e quando non si configura così si parla di stupro comunque di violenza quindi come mai trovi più divertente l'idea di potenzialmente violentare una persona che ti sta invece dando se stessa per il suo piacere ovviamente ma anche per il tuo c'è proprio qualcosa che non torna nel ragionamento e qua potremmo fare un sacco di pensate su qual è il contesto culturale mediatico eccetera però appunto la realtà dei fatti è che mediamente è più piacevole fare cose con qualcuno che le vuole fare veramente pur essendo un concetto intuitivo però come dire a volte ci si fa questa domanda e quindi forse è bene esplicitarla forse perché si ha un'idea di consenso un po' diversa da quella che è la realtà pratica dei fatti proprio appunto nel mondo del BDSM l'immagine tipica del consenso sono Christian Gray e Anastasia non mi ricordo manco come si chiama di cognome ai due capi di un tavolo con un plico alto così di contratti in mezzo che stanno negoziando io faccio questo ma tu non fai quello è una palla micidiale quella non è un consenso è un appunto può essere una bella scenografia ma lì finisce il consenso vero è il frutto di un processo di negoziazione sì ma fra due persone che si presume si vogliano bene come minimo e che quindi si parlano comunicano dicono ma guarda mi piace questo ma quello magari non facciamolo oggi perché non ce vogliano tu cosa ti piacerebbe fare quello eh sì però un normale dialogo fra persone non è un processo esatto un processo di comunicazione che è ovvio che assume certe caratteristiche che se sono due partner o più occasionali oppure assume come dire delle caratteristiche diverse se si tratta di un consenso dato di volta in volta in una relazione più continuativa di qualunque tipo allora mi viene da farti un'altra domanda provare a erotizzare il momento del consenso cioè a farlo diventare una parte no di quello che è l'avvicinamento erotico se stiamo parlando di una relazione sessuale con l'altra persona cosa ne pensi rispetto a questa cosa perché a me piace spero che piaccia anche ad altri nel senso personalmente sì è vero anche perché guarda lo dice proprio la scienza il grosso della seduzione dell'innamoramento del fascino che abbiamo nei confronti delle altre persone deriva dallo scoprire i loro segreti in un certo senso il modo in cui sono veramente nel profondo dell'animo e quindi è un bellissimo gioco se viene fatto consapevolmente questo scoprirsi tra l'altro nel corso di tutta la vita anche volendo perché comunque le persone cambiano col tempo cambiano le loro esigenze i loro gusti le loro curiosità e quindi è una parte secondo me del tutto integrata nel rapportarsi fra amanti sotto i vari significati di questa parola certo come la allora sono molto d'accordo perché credo che riguardi proprio adesso a me la parola preliminari non mi piace però riguarda proprio questo avvicinamento no? cioè questo gioco relazionale perché in fondo tutte le relazioni seguono un po' la dinamica del gioco però mi chiedevo rispetto magari ad alcune pratiche dove il corpo che ho involto fortemente non lo so penso al bondage penso a allo spanking no? come non so se il fatto di erotizzare anche la fase del consenso non ci porti a essere un po' meno lucidi a darlo no? mi chiedevo questa cosa qui come fare a mantenere quei prerequisiti che tu dicevi all'inizio che sono i pilastri alla base del consenso no? quindi che sia un consenso consapevole dato con con coscienza certo beh allora guarda non è per niente brutta come domanda è vero se nel no scusa nel senso nell'entusiasmo del momento no? nell'eccitazione effettivamente capita di magari andare oltre i limiti che ci si è posti è per questo che proprio prima ti dicevo di un processo di dialogo continuo e continuativo prima tu hai accennato ai terribili preliminari che suppongono che il sesso sia quella cosa che inizia nel momento in cui c'è che so io la penetrazione finisce alla fine e tutto il resto non è niente ma ragazzi il sesso è l'erotismo nasce molto prima e finisce molto dopo è un processo di stimolazione dei sensi della mente eccetera che ci si augura vada anche oltre se no che palle mamma mia cambiate partner è terribile questo secondo me è importante dirselo che la sessualità non è relativa solo alla penetrazione e neanche solo a quello che noi consideriamo propriamente atto sessuale che sia rapporto orale rapporto onale ma neanche alle pratiche chinchi o BDSM ma la sessualità riguarda il rapporto innanzitutto con noi ma il rapporto con gli altri che è fatto di dialogo comunicazione e avvicinamento bandiamo una parola preliminare che non si può sentire assolutamente come dire tutto ciò che riguarda quello che ci fa stare in relazione con gli altri esatto per questo dicevo se c'è un dialogo di questo genere magari si può anche evitare di ridursi a negoziare proprio i dettagli della cosa all'ultimo momento o al durante anzi quello sarebbe proprio meglio evitarlo proprio per arrivare avendoci avendo ragionato su cosa ci piace cosa non ci piace dove vogliamo arrivare avere definito uno spazio sicuro con un inizio una fine e una chiarezza di cosa succede in quello spazio in cui si è anzi molto più liberi a quel punto esatto definiamo il recinto dove ci possiamo muovere poi nel caso in cui ha ed è importante dirsi che anche quando sono dentro questo recinto se c'è qualcosa che non va di fisico emotivo o di qualunque altro genere posso alzare la mano e dire basta poi come mi insegni tu nel BDSM si usano le safe word perché a volte magari basta può essere malinterpretata quindi si può usare una parola concordata però è molto importante dirselo e questo può avvenire anche in relazioni che durano una vita perché magari quel giorno lì siamo emotivamente stanchi perché non abbiamo voglia o ci basta la voglia mentre anche stiamo stiamo avendo un rapporto sessuale stiamo insomma ci siamo vicini sicuramente funzioniamo così bene il safe word che adesso addirittura in terapia di copie vengono suggerite anche nelle copie meno BDSM che ci siano proprio dire datevi un segnale quando qualcosa vi mette a disagio fermi un macchino come qualcuno è da te esatto sì sì perché come dire l'esperienza sessuale è bella l'esperienza relazionale sessuale è bella proprio perché è piacevole se no perde veramente tutto tutta tutta la sua bellezza forse questa questa domanda abbiamo già risposto perché come praticare il consenso nelle relazioni non kinky no se hai da aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo già detto quali sono i consigli che possiamo prendere tutti rispetto al tema del consenso qualunque tipo di sessualità preferiamo vivere ma guarda io credo che ce ne siano mille di consigli da dare ma forse il più importante è quello di esplicitare tutto perché spesso siamo noi i primi a non darci a noi stessi il consenso a fare delle cose perché presupponiamo che poi saremo giudicati male dall'altra persona che non capisce non vuole visto che tanto stiamo parlando di persone con cui vogliamo condividere dei momenti di grandissima intimità magari tutta la vita addirittura figurati allora diciamocelo poi magari davvero non capisce magari davvero ti dice di no magari figurati ma molto più probabilmente è un'autocensura che ci stiamo dando e invece fare questo esercizio di dirsi veramente le cose senza aspettare che ci sia una telepatia magica da parte dell'altro perché ah sai nell'idiglio dell'amore devi capirmi sì devo capirmi però se me lo dice è più facile cioè risparmiamo un sacco di fatica direi più facile ed è meglio perché nessuno ha la bacchetta magica che apre magicamente il cervello e legge i pensieri ma anche gli psicologi anzi questo è un mito da sfatare nella maniera più assoluta sì e mi piaceva la cosa che dicevi del consenso verso se stessi perché a volte siamo noi i primi a non darci pienamente il consenso rispetto ai nostri desideri a quello che vogliamo fare anche a quello che stiamo facendo no perché il consenso cioè noi come prima cosa siamo in relazione con noi stessi quindi vale la pena investire a capire a capire noi che cosa vogliamo a darci il consenso di vivere o non vivere in quel momento preciso anche i nostri desideri ho una domanda che ha fatto una persona che mi ha scritto nella box vado poi c'era qualcuno che scriveva prima se si possono fare delle domande scrivetecele vediamo se possiamo dare una risposta allora questa persona mi chiedeva perché molte persone scambiano la gentilezza per consenso la giro a te perché sei tu l'intervistato comodo così eh sì beh allora fammi secondo me si può girare la domanda perché alcune persone tante persone sentono di avere il diritto di prendersi il consenso altrui cos'è che ci porta ad avere questo tipo di atteggiamento mentale e di nuovo le risposte sarebbero infinite hanno a che fare su come siamo cresciuti in che contesto ci troviamo che percezione abbiamo degli altri eccetera però spesso è proprio una questione di di cultura personale di educazione o mancanze di educazione personale se poi la domanda nello specifico era riferito alla alla sfera sessuale è ancora più complicata e e credo che qua davvero la risposta sia di mettersi a studiare e e capire tutti quei meccanismi segreti eh o che poi segreti non sono ma semplicemente non se ne parla eh per cui funziona la sessualità umana è proprio quello che faccio nelle live di twitch di che ti accennavo prima e come se qualcuno volesse seguirti c'è una un orario un giorno allora sì c'è sono due due stanze da un'ora luna da mezz'ora luna scusatemi eh su twitch all'interno di una live magazine che si chiama sugoi che vuol dire figo in giapponese e e ce n'è una proprio dedicata ai meccanismi eh non dichiarati della sessualità si chiama facciamolo ma bene eh e l'altra invece si chiama esploratore della sessualità insolita è un nome che io uso spesso nelle mie cose anche c'è anche il podcast per chi non l'ha esattamente sì e parte dalle cose più strane per capire quelle più normali ok mi viene un'ultima domanda che non ti ho anticipato secondo te quindi anche il consenso oltre che tutto l'ambito della sessualità ma qui apriremo un altro capitolo necessita di una buona educazione dove buono non è un giudizio di valore ma è un'educazione che sia non come dire che consenta alle persone di pensare intorno a questo tema e di dare delle direzioni verso cui sarebbe meglio tendere allora beh guarda io ho gli occhiali per dimostrare che sono un nerd è evidente però sono davvero convinto di questo guarda dopo tanti tanti anni di studio dell'argomento io mi rendo conto che più se ne sa di sesso e sessualità e più ci si diverte è proprio una cosa utile a se stessi l'esempio che faccio spesso è quello del canto e del nuoto che sono due attività che come il sesso si dice vabbè sono istintive naturali sappiamo come si fa ed è vero in un certo senso solo che se poi vai a un corso di nuoto o a un corso di canto improvvisamente ti diverti molto di più e sei molto più bravo col sesso non si fa un po' perché non ci sono le scuole ma anche perché appunto fa brutto ma invece guarda i libri qua dietro e tanti altri tanti siti lavori di divulgazione eccetera c'è una montagna di informazioni a disposizione che ci permette di migliorare a noi come persone e di essere degli amanti molto migliori per i nostri partner secondo me vale la pena di approfittarne sì e mi viene da dire che anche la conoscenza rispetto alla sessualità al tema del consenso ci può un po' aiutare a scardinare un po' la cultura diffusa che come dire la cultura che sperimentiamo tutti i giorni dove il consenso in termini generali non è sempre contemplato mi mi ha colpito l'altro giorno che ho visto una mamma che chiedeva a un bambino posso abbracciarti no forse possiamo partire proprio da lì da imparare a chiedere all'altro fin da piccolo il permesso per fare determinate cose sì anche perché poi appunto quando si inizia a farlo si scopre di avere molti più permessi di quelli che pensavamo esatto il mondo diventa migliore in generale va bene siamo quasi perfetti con i tempi visto io ti ringrazio tantissimo per aver aperto con me questa serie di dirette noi ci siamo conosciuti su Clubhouse qualche tempo fa io ti conoscevo già da prima il tuo libro l'ho letto tempo fa e magari poi ti rinviterò per parlare di altro se ti fa piacere perché no tanto appunto ormai ho fatto questo voto di questa missione di divulgazione ormai mi tocca però senti c'era qualcuno che aveva detto di fare delle domande infatti sto controllando scusatemi ma allora vediamo infatti faccio io una domanda se salvi questa questa live su io ci provo nel senso che penso che mi chiederà di salvarla io gli dirò di sì poi se questo processo va a buon fine non lo so però se sì l'intenzione è di salvare questa come tutte le altre e io la persona che ha fatto la domanda che ha chiesto se poteva fare delle domande non vedo che le ha fatte magari abbiamo risposto magari abbiamo risposto esatto allora io ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo e ci hanno seguito nella questa domanda probabilmente farò un'altra diretta però lascio un po' di sospanze rispetto al tema e all'altro ospite e il tema del consenso è importantissimo quindi ho iniziato a parlarne oggi ne parlerò anche con altri con altri ospiti ti ringrazio tantissimo e ho già detto dove poterti trovare se vuoi aggiungere qualcosa se no io la parte difficile con me è solo ricordarsi come si scrive il mio nome se vi ricordate poi mi trovate ovunque è A Y Z A D se ci aggiungete un punto com finite sul mio sito e trovate tutto i libri gli articoli i podcast i video gli eventi a cui partecipare il coaching veramente ce n'è fin troppo nel frattempo io vi ringrazio tantissimo grazie Anna grazie a chi ci sta seguendo e ci rivediamo buona serata a tutti grazie grazie a tutti